Per la sua bontà e per la protezione, e siccome i bambini hanno bisogno di aiuto e di protezione, la protezione e il bisogno di affetto ha portato famiglie del mondo anglosassone a chiamare Santa Claus, Sanctus Nicolaus. E' principalmente una cosa popolare, cioè c'è sempre un gruppo di coloro che hanno conosciuto colui che diventa santo e viene onorato da loro. Per esempio San Francesco d'Assisi non viene seguito prima di tutto da frati, viene seguito da popolo che sta a Perugia, che sta a Spello, che sta a Spoleto, che sta ad Assisi, ma è il popolo. Per me è importante proprio per tutte le ragioni storiche che ho cercato di spiegare questa sera, cioè della diffusione del culto e della importanza che ha avuto a partire anche dall'impresa dei Baresi e del culto che si è avuto in Italia, in Sicilia, in Puglia e poi dopo in tutta l'Europa. Ma il culto è un fatto importante di stima. Per me l'argento è importante per la Pieve di San Giorgio, ma anche per il culto di San Nicolò. E' un santo il quale è stato onorato in tutta la Chiesa orientale come Chiesa greca, ortodossa, vero? E quindi in effetti lui stesso, essendo di lingua greca, non parlava il latino ma parlava il greco. Quella liturgia che lui faceva come vescovo era una liturgia che si faceva in greco, con i riti propri della tradizione di Grecia, che erano tradizioni soprattutto provenienti dalla Siria, in particolare da Alessandria d'Egitto, da Gerusalemme e più ancora da Antiochia. Dove mi fa la pesa, la grena e poi se... Dove mi fa la pesa, la greca, la greca, la greca, la greca, la greca... Grazie a tutti!